Oggi sicuramente è una giornata importantissima per la nostra comunità, per tutta questa squadra che mi è stata accanto in questa bellissima campagna elettorale. Cominciamo da noi, da quello che è il nostro programma elettorale, da quello che vogliamo fare per la nostra bella città. Ovviamente porteremo avanti tutte le opere che già sono state avviate e poi inizieremo a lavorare fin da subito per imperniarci a realizzare quanto abbiamo inserito nel nostro programma elettorale. È un programma elettorale che abbiamo raccontato nelle piazze della nostra bellissima città, un programma ambizioso ma che siamo sicuri di riuscire a portare a termine con l'aiuto di tutti. Sì, sicuramente è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto con queste elezioni. Sono la prima donna sindaco del Comune di Baronissi. Questo è un grande onore per me, è una grande gioia. Sono fiera soprattutto del fatto che durante la nostra campagna elettorale tantissime giovani, tantissime bambine e si sono avvicinate. Quindi questo è un segnale sicuramente importante, è una cosa che mi rende orgogliosa e onorata. E poi una vittoria schiacciante al primo turno con il 70%, un obiettivo storico che non si raggiungeva da anni. Infatti siamo riusciti a prendere anche un premio di maggioranza. 12 sono i consiglieri che entreranno in consiglio e che mi saranno accanto in questa bellissima avventura. Quindi siamo molto orgogliosi e soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto.